Buonasera e buona domenica, ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. In queste 24 ore abbiamo avuto 6.000 nuovi sbarchi, sono numeri da invasione e non è un problema che può essere scaricato solamente sull'Italia ma deve farsene carico all'intera Europa. Bittonci questa volta ci va giù pesante a proposito della nuova ondata di profughi, parla di invasione, questo il post del sindaco di Padova pubblicato ieri nella sua pagina di Facebook. Noi sindaci, scrive Bittonci, dobbiamo dire basta a questa pazzia dell'accoglienza a tutti i costi. E in queste ore infuria la polemica politica con il governatore Maroni che minaccia i sindaci, niente contributi regionali a chi accoglie i profughi e nell'aria c'è già un incontro con Zaia e Totti per fare fronte comune ed assumere iniziative concordate a conferma della linea dura delle tre regioni del nord in mano al centro-destra. Noi continuiamo a dire di no, lo continuiamo a dire e per fortuna che abbiamo adesso tre governatori forti che lo dicono e che sosterranno anche le iniziative dei sindaci. A questo punto anche noi sindaci tutti assieme, anche della provincia di Padova, dobbiamo dire no a questo tipo di accoglienza. 400 i profughi in arrivo nel Veneto nelle prossime ore, 50 quelli arrivati oggi a Padova, mentre Bittonci ribadisce che per i migranti a Padova non c'è posto. Non si può pensare di scaricare le responsabilità di una mala gestione a livello governativo sugli enti locali, sui sindaci, sulla popolazione, magari prendendo in affitto delle case private. Io penso che questo sia un sistema completamente sbagliato. Spero che questo serva al governo per andare a battere i pugni a livello europeo, perché l'Italia non può essere lasciata sola in un momento così difficile. Non è pensabile, non è verosimile che non si arrivi a sapere da coloro che erano presenti quella notte in quell'albergo, a quel piano, quel finso piano, che cosa è accaduto. Torna a chiedere ai ragazzi di non nascondersi dietro al silenzio. L'avvocato della famiglia di Domenico, il giovane tragicamente morto in gitta scolastica, perché Stefani ne è certo, erano con lui quella notte, hanno bevuto con lui, non possono non sapere. In come lui avrebbe bevuto in compagnia di amici, chiedo ancora una volta che i ragazzi vengono a dire tutto quello che c'è da dire in ordine a quello che è successo. Perché se ha bevuto, ha bevuto in compagnia, se ha bevuto in compagnia è precipitato quando non potevano chieserci anche gli altri. L'avvocato ha già formalmente presentato richiesta per parlare con i compagni di stanza di Domenico, una richiesta che però ancora non è stata esaudita. Mi avrei molto, molto amareggiato se il mondo facessero, naturalmente io poi farò tutto quello che deve essere fatto lo stesso, anche se non avventiranno a questa mia richiesta. La legge prevede ora che l'avvocato possa rivolgersi alla procura e chiedere audizione di coloro che non si presentano. Sarà una verità dolorosa, ribadisce, per la famiglia e per i ragazzi, ma una verità c'è. Stefani ha duramente criticato le indiscrezioni emerse su un quotidiano nazionale in merito alla prova cinetica della caduta di Domenico dal balcone, secondo cui il ragazzo sarebbe stato già privo di coscienza. Ne prendo atto, non ho da dire, non espimo pareri perché sono troppo concentrato sulle cose importanti che ad oggi si possono dire, perché secondo me non siamo lontani dall'accertamento dei fatti e della verità. Ecco la banda dei furti ai distributori in azione. Uno fa il palo, uno scardina la colonnina del self-service, l'altro con un flessibile sventra la cassa e porta via il denaro. Dopo mesi di indagini i carabinieri di piove di sacco hanno chiuso il cerchio attorno ai tre, tutti italiani. Sono stati contestati complessivamente sei assalti a colonnine self-service di distributori di carburante e aree di servizio. Riteniamo che il danno tra denaro sportato nei vari assalti e danni materiali alle casseforti che venivano completamente sventrati si gira intorno ai 50.000 euro. La svolta nelle indagini, quando una pattuglia del nucleo radiomobile ferma un'auto la notte del 23 dicembre 2013. Nel bagagliaio trovano un flessibile, schedano i tre occupanti che erano sporchi di fango e li lasciano andare. Da qui partirà un più stretto giro di vite con appostamenti e intercettazioni che permetterà di arrivare a due dei tre componenti della banda. Federico Russo, residente ad Arzer Grande e Damiano Doardo di Campolongo Maggiore. Il terzo è ancora latitante. Spesso gli stessi arrivavano a piedi, a margine della sede stradale, quindi arrivavano anche da dietro i distributori di benzina, verificavano quelle che erano le condizioni della cassaforte e poi quando veniva deciso con molto scrupolo quello che poteva essere il furto veniva consumato. Corpivano di notte, tra domenica e lunedì, quando le colonnine erano ancora gonfie di denaro dal weekend. I due arrestati facevano anche parte di una banda dedita ai furti e ai banco, ma avevano appena terminato le misure cautelari, dunque erano a piede libero. In questo momento dove dormi? Da qualche amico, se mi ospita, in giro, finisco di lavorare, vado al parco, mi butto lì al parco con le mie ragazze, stiamo lì per non disturbare nessuno, sai com'è, un po' di dignità, però non è facile, trattolgono. La casa era l'ultima cosa che gli era rimasta dopo aver perso il lavoro, la moglie e la dignità. Ce lo racconta Angelo Padovano, residente da anni in un appartamento di proprietà dell'Ater in zona Arcella, casa che oggi gli hanno portato via, non è riuscito a pagare la somma del rientro di affitti pattuito con l'avvocato. Se ne vuole tanto di tempo, dopo cinque anni di lavoro, che non lavori fai tanti debiti, ne fai tanti veramente. Angelo non vive più con la compagna e il suo figlio, quindi non ha più diritto alla casa, è tutto spiegato in questi fogli. Racconta di essersi ammalato anche di depressione, quando tutto sembrava perduto, di sapere che cosa significa non avere più la voglia di lottare e farla finita. Sono rimasto anche senza luce e gas, a Natale l'abbiamo fatto senza luce e gas, non è casa. E gli stendi sociali non ti aiutano. La speranza gliel'ha data il cognato, che è riuscito negli ultimi mesi a trovare ad Angelo un'occupazione come magazziniere, ma questa entrata non è arrivata in tempo e così la sua casa l'hanno data già ad altri. Che cosa chiedi? Dignità, voglio la mia casa, voglio indietro la mia casa, voglio. Ancora un colpo inferto al traffico di droga nel Padovano. Un altro grossista è stato identificato e arrestato dagli uomini della mobile. Altri sette chili e mezzo di eroina che vanno ad aggiungersi agli altrettanti sequestrati solo una settimana fa dalla polizia. Sempre un albanese a gestire il traffico, ma si tratta solo di uno degli anelli di una catena molto più grossa. Sono sequestri importanti che abbiamo fatto negli ultimissimi giorni con l'arresto dei relativi trafficanti. È un dato che emerge dalla nostra attività di indagine che conferma un po' quello che è il trend a livello nazionale di un ritorno di questo tipo di droga che comincia ad essere consumata in misura maggiore rispetto agli ultimi anni. Eroina, una droga molto forte, dà gli effetti rapidissimi ma molto meno costosa della cocaina. Da qualche anno più facile da reperire. Un traffico preoccupante che starebbe esplodendo ancora una volta proprio a Padova. Pare proprio a causa dell'elevato numero di acquirenti. Insomma, il giro c'è. La polizia continua le indagini per risalire alla filiera dello spaccio. È un soggetto che appartiene ad un gruppo, ad un'etnia, ad una nazionalità che in linea di massima gestisce questo tipo di traffici. Apparentemente così, non è un soggetto che non testa nessun tipo di sospetto. Ovviamente è stato necessario un intuito particolare da parte di Polizia del Terramobile. È anche un pizzico di fortuna per arrivare al risultato di oggi. A tradire lo spacciatore i controlli sull'autodeposito risultata radiata dall'albo delle automobili. Nove in italiano, inglese, storia, scienze, disegno e storia dell'arte. Otto in latino, filosofia e ginnastica. Dieci in condotta. Domenico sarebbe stato amesso con un punteggio di 22 su 25 alla maturità tra i migliori della sua classe. Peccato che oggi Domenico quei voti non li abbia potuti ammirare. Portato via da una tragedia ancora senza spiegazione che gli ha impedito di vivere uno dei momenti più significativi per un adolescente. La maturità. Ad un mese esatto dalla sua morte non c'è nulla che possa far sorridere guardando i tabelloni con i voti così alti. Di solito si esplode in urli di gioia. Oggi al liceo Nievo però non è avvenuto niente di tutto ciò. Solo silenzio e una verità ancora lontana. Molte incognite e poche certezze. Vedendo i voti di Domenico ci ricordiamo le parole di mamma Antonia che proprio ai nostri microfoni aveva raccontato delle capacità del figlio. Era un ragazzo mite, amava la musica, amava studiare la lingua inglese, in generale prediligeva le materie umanistiche rispetto alla matematica o a materie del ramo scientifico. Però era impegnato a scuola, era studioso molto regolare. Quindi era un ragazzo che quando doveva lavorare rendeva conto e si impegnava. Mamma Antonia e Papa Bruno che ieri sera hanno ricordato il figlio con una messa nella chiesa di Altichiero. La prima occasione per rivedere i compagni di classe di Domenico. Poi alle 21 e 30 hanno acceso un lumino in terrazzo. Oggi dovrebbe essere arrivato in città per ascoltare i ragazzi della Quinta e del liceo Nievo anche l'avvocato della famiglia Marantonio. I ragazzi sono stati tutti ammessi agli esami con voti buoni, anche se per 10 su 22 spicca l'otto in condotta. Ad uccidere la piccola Iara Gambirasio non sarebbe stato Massimo Bossetti. La rivelazione è sciocca attraverso due lettere anonime spedite da Padova ad un noto settimanale di gossip e attualità. Nella lunga confessione viene anche indicato un altro colpevole per l'omicidio della 13enne di Brembate, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata morta tre mesi più tardi. Secondo l'anonimo, il vero assassino sarebbe un muratore polaco che beveva troppo e quando era ubriaco diventava violento. Le lettere hanno il timbro postale di Santa Giustina in Colle. Padova così entra di nuovo tristemente nella vicenda della piccola Iara. Nel 2011, in quanto città dove era passato il marocchino Mohamed Fikri, il piastrellistra che lavorava in un cantiere di mapello, arrestato una settimana dopo la scomparsa di Iara su un traghetto diretto in Marocco a causa di una traduzione errata e prosciolto dopo due anni. Il settimanale a cui è stata inviata la confessione fa notare che l'unica persona che compare nelle 59.000 pagine dell'inchiesta sulla morte di Iara proveniente da Santa Giustina in Colle è proprio il datore di lavoro di Fikri. Da quello che si legge nelle lettere però sembra che l'autore e Bossetti abbiano assistito all'omicidio e poi abbiano collaborato per abbandonare nel campo il corpo senza vita della tredicenne. L'abbiamo scaricata come un sacco di patate, si legge. La procura bergamasca ha già esaminato il contenuto delle due missive ritenendole non attendibili per le indagini. Il tra luglio intanto Massimo Bossetti verrà processato. La talità mio papà si chiama Antonio e con l'occasione ne approfittiamo. Se vuole fare il miracolo. Il miracolo vorrebbe lei? Campare altri 50 anni. I primi pellegrini arrivano al Santo in attesa dell'appuntamento di questa sera con la sacra rappresentazione del suo arrivo su un carro trainato da buoi. Alle 20.30 il corteo partirà da Piazza Azzurri d'Italia e poi un concerto di campane si estenderà ai campanili di tutta la città. La mia famiglia è già mio padre, il nome è di Antonio. Io il secondo nome è Antonio. Mio nipote è Antonio. Al cospetto del Santo abbiamo incontrato padre Marciano Morra con fratello di padre Pio ed ora segretario dei gruppi di preghiera a lui intitolati. Il Santo che entra nella devozione popolare va oltre tutti i confini. Ma secondo lei perché? 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 Perché Sant'Antonio è chiamato padre dei poverelli. Sentono molto la sua vicinanza. Forse sono stato graziato io. Ho avuto un incidente e mia madre ha pregato tanto e ha detto che sono stato graziato. Perché il Santo siamo convinti che sia il nostro protettore e abbiamo chiesto tante grazie e siamo stati anche esauditi. Anni e anni fa sono venuta, ero a Vicenza per motivi di salute, sono venuta qui da sola. Ho pregato con tanta fede ma sono stata sempre devota. Il Santo dei Miracoli che morì proprio all'Arcella all'età di 36 anni il 13 di giugno. Oggi i tanti fedeli accorsi hanno ricevuto in dono il pane del Santo Benedetto. Racconta la leggenda che una madre cui il Santo salvò il figlio dalla morte promise di fare tanto pane per i poveri quanto il peso del suo bambino. E così è ancora oggi. Abbiamo fatto 6.500 pannelli. Quello che viene ricavato viene proprio per i poveri. Pagare bollette, ci sono tanti poveri. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata. Grazie per essere stati in nostra compagnia.